Bene amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione Italibrea sul canale 178. Allora, il tempo è bruttino, lo avete visto, non c'è dubbio, e anche le previsioni, il meteo, ormai tutti siamo bravi a andare a vedere cosa accade, possiamo anticipare, anche il comune di Ragusa ha allertato la sede della protezione civile in città, memore di quello che è successo ieri, alla fine ieri ha preso 20 minuti, abbiamo avuto i soldi problemi in alcune zone, però le previsioni parlano di pioggia abbastanza forte in una certa zona della Sicilia, soprattutto la zona verso l'Icata e che va a lambire anche il nostro territorio e quindi anche da noi ci saremmo stasera delle piogge, non dovrebbe essere una cosa particolarmente preoccupante, però l'estate è finita, il 21 di settembre come tutti sanno cambia la stagione, siamo entrati in autunno e come vedete addirittura ci sono già le prime nevi nella zona alpina. Ora noi abbiamo rotto tanto le scatole con il fatto, la siccità, il freddo, il ghiacciaio che si squaglia, che purtroppo ha visto quanti morti ha fatto e quindi il fatto che si torni ad avere un inverno vero sarebbe una cosa interessante, una bella cosa, un inverno con le temperature giuste, il freddo, insomma sarebbe una cosa giusta. Purtroppo non è così, nel senso che tutti dicono che quest'estate, che è stata l'estate più calda degli ultimi cento anni, per alcuni è la prima dell'estate più calda che ci saranno nel futuro. Cosa possiamo fare? Certo non possiamo fare nulla nel giro di qualche anno, perché per arrivare a cambiare dovremmo davvero impiegare, dovremmo essere tedeschi, dobbiamo smettere, ma non si può fare. Tra l'altro sappiamo tutti che i grandi inquinatori non siamo noi poveri italiani che abbiamo un'acciaeria e qualche macchina e poi le macchine non sono quelle che inquinano, stanno cercando di farci ubriacare con l'elettricità, ma non sono quelle che inquinano e dovremmo andare a chiedere ai grandi paesi, quelli che producono e che quindi consumano energia, parliamo della Russia, parliamo soprattutto dell'America, parliamo della Cina, parliamo dell'India, quelli dovrebbero ridurre, ma quelli sono stati 50 anni sotto tono e non si preoccupano, a parte gli americani, quelli sono sempre stati esagerati. Purtroppo l'altra notizia molto importante è che se fa freddo dovremo anche pensare al fatto che non abbiamo più le grandi capacità di utilizzare l'energia come era nel passato, continua questa guerra che ragazzi ormai è arrivata a sei mesi e quindi le truppe che dovevano essere trionfanti come c'era scritto una volta alla prima guerra mondiale, queste truppe non vanno avanti e il buon Putin per modo di dire comincia ad avere molte preoccupazioni persone, ma soprattutto interne. Allora io credo che questo è un metodo, una volta si diceva bisogna delegittimare il leader, cioè fare capire che non è più quello giusto perché sta combinando tante stupidaggini che la gente nel suo paese incomincerà a non crederci più e sta accadendo, centinaia di migliaia di persone stanno dicendo che giustamente guerra non le vogliono fare, mi pare più che giusto. Ragazzi di 30 anni che magari hanno una famiglia devono andare a fare la guerra, che non è una guerra per finta, attenzione è una guerra vera e gli ucraini la guerra la fanno davvero perché loro hanno una motivazione, devono difendere la loro patria, i russi invece no, vanno ad assalire un altro paese e quindi è difficile spiegare ai ragazzi che devono andare a morire per conquistare un pezzetto di Ucraina, che poi a noi che diavolo. Però ora io dico, ma quello che dico io chiaramente non conta niente, io credo che questo sarebbe veramente il momento giusto per trovare un momento di pace, cioè per iniziare con una tregua, una pausa, un armistizio, qua dovrebbero essere tutti gli uomini, tutti i capi di Stato, già l'ha detto anche l'India e la Cina, hanno detto basta perché alla fine ci roviniamo tutti, ora sarebbe il momento che tutti, vuol dire tutti, dal Papa a dire che a Zelensky e a Putin che è il momento di discutere, perché una tregua darebbe a tutti, a tutti la possibilità di salvare la faccia e salvare la faccia oggi è molto importante perché sennò Putin non riuscendo a salvare la faccia avrebbe tanti problemi. Zelensky, il Presidente dell'Ucraina ha conquistato consensi incredibili perché la sua resistenza di sei mesi è stata eccezionale, anzi non solo resistenza e quindi sarebbe il momento non di acuire, non di peggiorare, ma di dire oggi è il momento di trovare una soluzione e quindi anche quando c'è qualche offesa, perché non c'è dubbio che la propaganda si deve fare, perché nessuno diceva stiamo perdendo la guerra, ve lo immaginate? Una volta diceva stiamo perdendo la guerra, mai è stato detto, perché se tu dai anche l'impressione che stai perdendo la guerra la perdi comunque davvero. Allora, in questo momento anche se loro dicono qualcosa dovrebbero essere come si dice la figura del padre Ran, no? Ecco Biden dovrebbe in qualche modo incassare e fare in modo che si possa trovare un modo per iniziare a discutere, perché se non discutiamo una guerra che dura altri due anni, dissangua tutti, anche noi e non si sa mai dove va a finire. Queste sono delle cose da persone che hanno un po' di gnegno, ora dici che fa Putin, come si chiama, Biden non ce l'ha un gnegno, ma oggi sarebbero tutti, abbiamo i grandi, dice che Draghi è il più grande di tutti, bene, Draghi, Macron, tutti, che insieme dicano è il momento, non ti facciamo fare mano a fiura, andiamo a trovare una pace, perché ne abbiamo bisogno tutti, sarebbe il momento giusto. Vediamo le news di oggi.